Buongiorno, sono Diego Savio, l'amministratore delegato di PMPI Solution, una società nata nel 2007 che fornisce soluzioni di project management. Nel 2009 PMPI incorpora APM Consulting e prosegue nel suo percorso di divulgazione delle teorie classiche di project management e di loro applicazione su progetti concreti. Più di recente si trova a lavorare a stretto contatto con i professionisti di Contegal QS e di Exanet e da lì nasce l'idea di una partnership per mettere a fattore comune le diverse esperienze. A novembre del 2021 PMPI entra a far parte del gruppo Conteg con l'obiettivo di fornire ai nostri clienti una soluzione il più possibile completa e di qualità. Siamo felicissimi dell'investimento su PMPI, una nuova società che ci permette di entrare in un campo perfettamente complementare alle attività che abbiamo in corso con AQS e con Exanet che fa servizi di direzione ai lavori, con Conteg Industry e con tutte le società del gruppo Conteg. PMPI ci permetteva di completare l'offerta dei servizi di ingegneria soprattutto nel settore delle infrastrutture. Diventiamo soci di Diego Savio che è un collaboratore e un professionista di altissimo livello e non potremo che fare bene. Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa e siamo tutti impegnati a dare il massimo perché possa raggiungere gli obiettivi che ci siamo perfissati sia nel breve che nel medio termine. I servizi di project management e di construction management stanno finalmente prendendo piede anche nel nostro paese, sia nel settore privato che nel settore pubblico. Come gruppo Conteg da oltre 30 anni proponiamo questo genere di servizio e anzi spingiamo i nostri collaboratori ad acquisire quel tipo di competenze. Ed è in questo quadro che l'acquisizione di PMPI Solutions da parte di Conteg rappresenta un'operazione assolutamente strategica che ci consente di rimanere in quel mercato e di farlo, come siamo soliti, con una società specializzata e che soprattutto vede al suo interno un gruppo di lavoro fatto di professionisti certificati PMPI, vale a dire la più importante e complessa anche certificazione internazionale nell'ambito del project management. Le stesse considerazioni variano anche per PRONEST. PRONEST è il gruppo Conteg che insieme a Conteg, a QS e all'ingegner Savio rappresenta la nuova compagine sociale di PMPI. Affiancare le società di ingegneria, le imprese, i concessionari, le amministrazioni pubbliche nella gestione dei loro investimenti o di processi edilizi significa anche potergli offrire servizi di project management adeguati alle complessità che sono chiamate ad affrontare. In questo quadro l'acquisizione di PMPI rappresenta un naturale complemento del portafoglio di servizi offerti da PRONEST.